Sul Mona come si presenta per il Giro d'Italia? Ma si ferma a Pratola, come si presenta al solito, morta, qualche cosa la vorremmo fare, ma che facciamo per movimentarla un po'? Ma dipende dal passo però, dice che passa a sconvolazione occidentale, ecco perché stavano mettendo le toppe abbastanza bene. La città si presenta bene perché con il Giro d'Italia, almeno il tratto del Giro d'Italia, le buche le ripareranno, eh sì, spero che le ripareranno, però i buche qua, i buche là, i soldi sono quelli che sono, non possiamo dare la colpa al sindaco o chi per lui, perché giustamente quelli fanno quello che possono fare, se lo riparano è una cosa brutta, insomma. Rifacimento del look nelle strade cittadine e pulizia approfondita della città. Così sul Mona saluta il Giro d'Italia. Domenica 13 maggio la Carovana Rosa attraverserà le strade della città per la nuona tappa Pesco-Sannita-Campo-Imperatore. La corsa, proveniente dalla Stadale 17, percorrerà Viale Giuseppe Mazzini, Via Trieste e Via Circomorazione Occidentale, imboccando poi Via Pescara, Viale della Repubblica e Via del Lavoro. La sosta della carovana è attesa per le ore 13 in Viale Mazzini, mentre il passaggio dei ciclisti sul territorio cittadino tra le ore 14.35 e le 14.59. Per l'occasione sarà disposta l'avvertura del COC al fine di garantire le condizioni di sicurezza e dell'ordine pubblico con l'attivazione delle funzioni di volontariato e strutture operative. Ma in queste ore rimbalzano le polemiche sullo stato delle strade, soprattutto nel tratto che va dal ponte San Panfilo all'incrocio tra Via della Repubblica e Via del Lavoro, una serie di avallamenti e talli sul manto stradale che potrebbero recare qualche problema ai ciclisti. A farlo notare, nei giorni scorsi, è stato Massimo Carugno della Segreteria Nazionale, PSI. Buche ovunque, dossi, un pericoloso sparti traffico al centro della strada all'altezza del bivio di Via del Cavallaro, sottolinea, che rischia di provocare pericolose cadute. Insomma, gli ingredienti per una colossale e brutta figura in mondo visione ci sono tutti. Quella di Carugno è un'osservazione costruttiva, ma è pronta la replica dell'assessore Nicola Angelucci. Abbiamo dato il via a un piano straordinario che riguarda il rifacimento del look delle strade cittadine e il taglio dell'erba, garantendo inoltre, in accordo con il Coggesa, la polizia approfondire dell'intera zona, così che Sulmona potrà accogliere al meglio la corsa, al di là dei solidi chiacchieroni, afferma. Siamo sicuro che i sulmonesi non faranno mancare sostegno ai ciclisti nel centonesimo giro d'Italia, che passeranno nella nostra città. Ringrazio quanti si sono impegnati affinché la nostra città fosse pronta ad ospitare al meglio la corsa.